Dal punto di vista dell'usabilità dell'utente l'app mi sembra fatta veramente molto bene, è estremamente lineare, è estremamente snella e non è invasiva sicuramente. Dal punto di vista invece della privacy va detto che noi oggi disponiamo della possibilità di verificare cosa l'app fa effettivamente perché esiste ed è stato rilasciato pubblicamente quello che si chiama il codice sorgente dell'app, cioè le istruzioni che descrivono tecnicamente al telefono quali sono le operazioni che l'app va a fare. Questo codice sorgente è liberamente disponibile quindi chiunque può verificare.